Mi dispiace tanto per le 250 famiglie e sono a casa da tre anni, con 600 euro al mese. Lo spettro del fallimento si aggira sulla Cantarelli, storica azienda tessile della provincia di Arezzo che adesso ha sede a Terontole, che da tempo ha lasciato la sede storica di Rigutino. Insomma, le immagini parlano davvero da sole. Abbiamo passato la nostra, tutta la nostra vita lì dentro. Se non ci saranno altre soluzioni, sarà fallimento, ma in queste ore sarebbero pervenute altre due manifestazioni di interesse, una ritenuta accattivante. In corso verifiche e approfondimenti con il Tribunale di Arezzo che ha concesso tempo e al quale si erano rivolti anche i sindaci di Arezzo, Castiglione Fiorentino e Cortona. Appello anche alla Regione Toscana. Io credo che si debba attivare subito un percorso con il Ministero prima ma anche con la Regione per riuscire ad aprire, vorremmo, vorrei aprire un tavolo appunto di confronto con l'assessore alle attività produttive, proprio per cercare di capire cosa fare in questa situazione. E parallelamente, ovviamente lo farà il Ministero, ma parallelamente continuare a lavorare affinché la Cantarelli, che è un grande marchio Medinitali, continui a vivere. Il 16 di maggio intanto è fissata una processione, una fiaccolata di solidarietà organizzata dalla Chiesa per tutti i lavoratori. Il lavoro è dignità, il lavoro è dignità della persona ed è molto importante, non chiedo altro.